Oggi Prada ritiene che investire nella sostenibilità e nel digitale siano aspetti chiavi fondamentali perché sono i pillar del futuro. Innanzitutto la sostenibilità perché non c'è futuro senza di essere su tutti i punti di vista e sul digitale perché comunque la cosa più preziosa che abbiamo è il tempo e il digitale è uno di quegli strumenti che permette in maggior modo efficienza e quindi alla fine ci permette di guadagnare tempo per fare altre cose a valore più elevato. Le competenze oggi che richiediamo ai giovani che vogliono entrare nel nostro gruppo sono di vario tipo. Sicuramente gli strumenti base digitali di oggi, banalmente parlo della suite Office 365 di Microsoft oppure se è un ragazzo che dovrà lavorare nel marketing digitale ci sono diverse piattaforme che richiedono di essere utilizzate, per esempio noi lavoriamo con Adobe ma esiste Salesforce, esistono molte altre piattaforme, comunque avere delle conoscenze di base di quali sono gli strumenti di oggi è molto importante. Il master serve a formare quelle competenze di base e dare un minimo di regole e di framework in cui lavorare e potersi esprimere. Il vantaggio è dare un master che già dà dei punti di riferimento, avere questi punti di riferimento credo che acceleri l'apprendimento poi all'interno di un'azienda. Quando sfumiamo un giovane le competenze le diamo per scontate, però diciamo fattori chiave che noi prendiamo in considerazione è sicuramente la curiosità, secondo l'aver visto, viaggiato o provato esperienze al di fuori del proprio perimetro e terzo il carattere e lo spirito perché è fondamentale lo spirito di squadra in un'azienda. Grazie. 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 Grazie.